Ho il piacere di parlare, di raccontarvi, anzi di farci raccontare dal suo autore questo libro qua, Lo Splin di Lucio. Lucio è Lucio Battisti e il nostro autore è Francesco Patrizzi. Allora, un libro, Francesco, sui dischi bianchi cosiddetti di Lucio Battisti, cioè di quelli scritti insieme a Pasquale Panella, che è forse limitativo definire paroliere perché è poeta, scrittore, persona molto colta, molto criticati, molto poco capiti anche. Quindi tu hai avvertito il bisogno di scrivere questo libro molto corposo di oltre 350 pagine per raccontare non solo questo Splin, questo sentimento così di malinconia profonda dei dischi di Lucio Battisti della parte finale della sua carriera, ma anche per raccontare Panella. Allora, io mi sono segnato alcune cose su questo libro. Allora, anzitutto, la prima cosa, come nasce, la prima domanda abbastanza banale, come nasce il desiderio, perché nasce soprattutto il desiderio di scrivere un libro sui dischi bianchi, nel senso che hanno la copertina bianca di Battisti e Panella, che sono complessivamente cinque. Sono quelli che vanno da Don Giovanni a Hegel, quindi parliamo 86-94 come periodo, sono dischi che ho scoperto, tanti Battistiani Doc, caro Francesco, non conoscono neanche, perché c'è stato sempre una sorta di messi in quarantena dalla critica, e tanti hanno sempre detto, anche, insomma, critici che io stimo molto, hanno sempre detto, non che sono dischi di qualità inferiore, ma che andrebbero studiati, sai, quando gli dicono così, andrebbero studiati, andrebbero studiati, anche durante l'ottantesimo della nascita di Battisti, ho sentito ripetere, andrebbero approfonditi, andrebbero affrontati, e io l'ho fatto. Ci ho speso ben quattro anni di ricerche, ma se ti faccio il conto da quando è che li sento e mi domando cosa significano queste canzoni, sommando tutto arriviamo a quasi 25 anni, insomma, di ricerche e di cose, perché ho sentito il bisogno di colmare una lacuna, ma anche di andare a capire chi fosse il Battisti quarantenne barra cinquantenne, che è quello, noi abbiamo le immagini di Battisti col fular, oppure quando andava a cantare con Mina in televisione, quello degli anni settanta, ma non conosciamo per niente questo Battisti misterioso, evanescente e bianco, ecco, definiamolo così. Allora, perché lui avverte questo sentimento di insofferenza verso il suo grande successo, tanto poi anche da ritirarsi completamente dalle scene, non fare più concerti, non apparire più in tv? Ma guarda, se vai a vedere la discografia di Lucio Battisti, lui quando sta sulla Cresta dell'Onda 69-70, incide quella, tu lo conoscerai sicuramente, Amore e non amore si intitola, con quattro brani interamente musicali, orchestrali, molto d'avanguardia tra l'altro, e canzoni come Dio mio no, che poi fu censurata e Rai perché c'erano riferimenti sessuali espliciti, e canzoni molto rock, trasgressive, supermarket, non glielo fecero uscire, glielo bloccarono. Poi nel 72 lui litigò quasi con Mogolla perché infilò dentro un album che si chiamava Umanamente Uomo e il Sogno, una traccia soltanto musicale molto d'avanguardia, si intitola Il Fuoco, e Mogolla ancora oggi ripete che è il pezzo più brutto che ha scritto Lucio Battisti, secondo me è uno dei più belli e affascinanti e misteriosi. Poi va a fare Anima Latina che è di nuovo una cosa anticommerciale, in quell'ottica lì, e gli danno addosso, i critici dicono no, non uscire dal tuo recinto, uso questa parola perché poi se vai a vedere già 1982, quando lui dice finalmente adesso faccio quello che mi pare rispetto alle esigenze delle case discografiche, lui mette proprio nella prima canzone del disco la frase esci dal tuo recinto, e quindi era la sua esigenza di dire, insomma, la mia anima non è soltanto quella che ce l'ha, è di vocazione pop, quindi di inseguire anche la disco music come farà con Ancora Tu, Una donna per amico, eccetera, ma anche di fare, di spaziare con ricerche che non avessero vincoli, ecco, sono quelle. E l'incontro con Panella porta a un primo disco, abbastanza complicato proprio dal punto di vista letterario, che è Don Giovanni. Siamo nell'86, mi pare, se non vado errato, poi magari mi correggi tu, ed è un disco che, e un po' tutte le canzoni di Panella di quel periodo, di quel periodo battistiano, si ispirano molto anche a Baudelaire. Ecco, tu fai questa differenza nel libro. Da quel momento in poi Battisti e Panella si ispirano alla poesia di Baudelaire. Fino a quel momento la canzone italiana, grosso modo, si è respirata a Petrarca, quindi c'è una grande differenza compositiva. Sì, ho fatto un po' questa provocazione perché, se vai a vedere, poi tu insegni italiano, la poesia italiana, da Petrarca a Dante fino almeno al Novecento, i luoghi, l'indagine dei sentimenti, ma anche le immagini che dà sono quelle. Pascoli, sì. Eh, Pascoli, e via dicendo. Ma anche se vai a vedere Montale, uno molto, no? Sempre lì, siamo parlati di quelle cose lì, le bionde il reccio, gli occhi azzurri, e poi siamo sempre lì. Invece il salto che si fa con Battisti cercava una cosa completamente diversa. Io non so se Panella gli ha detto, leggi dei fiori del male, o viceversa, Battisti ha fatto, voglio lavorare sui fiori del male, non lo sapremo mai questa cosa qui. Comunque, fatto sta che Baudelaire è il primo poeta che si sente un pesce fuor d'acqua rispetto alla società in cui sta. E questo è stato, secondo me, il forte rispecchiamento che c'è stato rispetto alla vita di Battisti, proprio artistica. E Baudelaire è stato il primo a dire che la poesia rischia di non servire più a niente. Non c'è posto in questa società, e lo diceva a metà dell'Ottocento, in questa società dei consumi e della modernità più sfrenata, ma la poesia a che servirà mai? Rischia di essere una sorta di ampolla in cui ti chiudi. Ecco. Ecco, una sorta di ampolla in cui ti chiudi. Quindi la voluta complessità dei testi di Panella è appunto legata anche a questa esigenza, cioè quella di raccontare, di suggerire un po' come la poesia in senso tradizionale classico sia tramontata. C'è una cosa che mi ha colpito, lo dicevamo prima di cominciare l'intervista, cioè che Panella è anche l'autore del testo di Vattene Amore, di Minghi, cantata a Sanremo assieme a Mietta. E lì tu hai avanzato un'ipotesi che poi, io ho riascoltato la canzone, mi sembra effettivamente molto sensata, cioè quella di dire che in realtà il testo non parla di una fine, di una relazione amorosa, ma parla della volontà dell'autore di cacciar via l'amore, nel senso di sentimento, proprio dalle canzoni. Quindi amore nel senso proprio greco del termine, eros, con la maiuscola. Mi ha un po' sconvolto questa cosa, perché in trent'anni non ci avevo mai pensato, in trent'anni da che è uscita quella canzone. Lo so, ti ho sconvolto come ho sconvolto tanti che l'hanno letto, ma se andate a leggere, l'assunto proprio di Panella, era questo qua, nelle canzoni di Don Giovanni, anche dopo, e tutti i dischi bianchi poi, per cui Panella poi fa un suo percorso trasversale, lo mette anche in vattene amore. Cioè, ma le canzoni che si cantano, chitarra e voce per intenderci, la canzonetta leggera, ma debbono per forza parlare d'amore? E poi obbligatorio ci debba essere lui e lei che si amano, si lasciano, si riprendono, non si può parlare di altro? E di fatto, i dischi bianchi affrontano questo argomento, dal dentro però, cioè, quelli che si lamentano di non poter uscire dalla canzone, sono lui e lei, no? Cioè, alla fine, lei è come se prendesse vita, tu dici, lei chi? Lei è l'innamorata delle canzoni, lei a cui, dai tempi dello stil nuovo, viene rivolto il canto d'amore, tu sei qua, Laura, Beatrice, compagnia bella, perché a un certo punto questa lei dice, ma senti un po', ma è stufata che mi stai prendendo in giro, è una cosa molto metaletteraria e d'avanguardia, postmoderna, chiamala come vuoi, però è un'operazione molto originale, poi, se segui questo filologico, arrivi poi nel mio libro a capire dove vanno a parare i Nagel nell'ultimo libro, dove lei finalmente dice, va bene, me ne vado, ti lascio solo, ma alla fine, ovvero inizio di quell'ultimo disco, lei ci ripensa e ritorna dentro, perché alla fine è tutto un gioco, perché smontare il gioco, quanto il gioco è bello. Quindi sono cinque album, quelli di Pasquale Panella, che vanno ascoltati un po' conseguenzialmente, perché in realtà sono cinque capitoli di uno stesso libro ipotetico, di uno stesso progetto. Però c'è tanto altro, dobbiamo per forza sintetizzare. Cosa succederà alla ragazza, che è un altro di questi cinque album, è un po' la storia di Millie Bloom, che è appunto la figlia del protagonista dell'Ulisse, come diavolo c'entra, la figlia del protagonista dell'Ulisse, in un disco pop, comunque di musica sperimentale, ma comunque di musica, definiamola leggera, anche se un po' impropriamente. Allora, guarda, ti faccio una premessa di questi tre album sullo sposo occidentale. cosa succederà alla ragazza Hegel, che escono uno presso all'altro gli ultimi reddischi, perché il primo riguarda la sposo occidentale, una figura femminile che nei fiori del male è presente, ma non è mai nominata nome e cognome e non è mai coerente. Il protagonista è sempre maschile e c'è questa donna che l'ossessiona, ragazza che l'ossessiona, che poi tanti ci hanno visto, Jean Duval, l'amante di Baudelaire, poi altri ci hanno visto, altre figure. Per cui è una donna destinataria, ma marginale, non nominata. Se leggi l'Ulisse di Joyce, è tutto lui, Leopold Bloom e personaggi maschili che parlano e l'ultimo capitolo la moglie. Il personaggio che non compare mai fisicamente, non compare mai neanche che parla o dice una parola, ma è soltanto evocato tramite due lettere che legge il padre, è la figlia. Tre casi emblematici in cui in due casi di romanzo e uno di poesia, il personaggio femminile è centrale, ma non c'è. Per cui si riprende lo spazio. Allora, veniamo a cosa succede alla ragazza. Millie, la figlia che poi non compare mai nell'Ulisse, questa volta si prende lei tutto il disco. È la sua giornata, come quella dell'Ulisse e la giornata di Leopold. Quindi, da tutto questo stiamo capendo che i cinque dischi Battisti Panella sono estremamente colti e anche il libro di Francesco Patrizzi che li racconta e li interpreta è altrettanto colto e va letto con molta attenzione e con molta calma. L'ultimissima domanda ha a che fare proprio con Egel che è un disco, tu lo definisci, nel libro di scatole cinesi perché, oltre a tutte queste cose che hai detto e a molte altre che trovate nel libro, Panella cerca di fare anche la cosiddetta destrutturazione della canzone. Che cosa significa esattamente? Panella è micidiale perché a un certo punto tutti si sono chiesti quelli che hanno ascoltato Egel come me io ti premetto che Egel lo ascolto spesso quando la dà correre e poi scoperti anche un amico mio perché è un disco talmente ritmato e gioioso e felice che tu non diresti che è abbinato allo splin come sentimento di malinconia. In realtà questa malinconia è la fonte da cui poi emerge la gioia della musica quindi è un altro discorso. Quello che fa nell'ultimo disco proprio è questo personaggio femminile che non ha nome è la lei che a un certo punto sente una voce che le dice dobbiamo andarcene via e lei si ferma un attimo e guarda che cosa guarda se stessa quando stava sul letto e se la godeva la grande. Raccontare una canzone così che si intitola almeno l'inizio è molto difficile a meno che non entri in questo ragionamento dei dischi bianchi entri nell'operazione di Egel e capisci che lei era quella di Vattenamore sempre la stessa che finalmente è arrivata alla fine di questo ciclo dice l'amore di io e te lui e lei che sta nelle canzonette che cos'è? L'analisi che fanno Battisti Panella è questa è una sorta di allenamento un protromo del darsi agli altri dell'aprirsi agli altri quindi chi sente le canzonette parla d'amore perché sta stimolando il suo sentimento di apertura verso l'altro per cui fanno un percorso anche filosofico per arrivare a dire ciò e dicono beh una volta che uno ha questo consapevolezza di ciò che bisogno hai di cantare lui ama lei lei ama lui se sai che è soltanto un trampolino di lancio per saltare nell'etica diciamolo così no? del comportamento ma lei finzione dice vabbè però è tanto bello cantarsele queste cose che quasi quasi ci dipenso e rientro nella canzone e non mi muovo da qua ma come diceva lo stesso Pasquale Panella lui consegnava i testi a Battisti e poi Battisti ci lavorava sopra con le musiche con le melodie con gli arrangiamenti come se fossero delle sceneggiature per cui se andiamo a pescare delle canzoni di Compo Random il doppio del gioco in Don Giovanni lì la trama era l'incontro tra due spie su un ponte doveva essere una spy story un thriller e Battisti costruisce il giro di basso che dà quel tipo di atmosfera lì nello stesso disco Equivoci Amici era una canzone che doveva rispecchiare invece il caos creativo che sta nella testa dello scrittore e in quel momento lì Battisti costruisce su quel testo lì la canzone forse più incasinata più confusionaria perché era quello il tema appunto che doveva rendere o facendo un salto cosa succederà alla ragazza il disco comincia con il padre Leopold che si fa la barba e pensa in maniera anche preoccupata la figlia che ha 15 anni è già oggetto di desideri sessuali lavora fuori casa e anche lì lui costruisce questo giro di basso e questa canzone che monta sempre più con l'ansia perché rispecchia la psicologia del padre in quel momento sta lì messo in quella condizione psicologica se vai a vedere tutte le tracce sono costruite così cioè Battisti ha sempre solo lavorato costruendo le melodie gli arrangiamenti e tutto sceneggiando i testi che aveva preparato Panella concordati sull'operazione che stavano facendo io credo che sia un'operazione unica nella musica italiana pensata a così si avvicina molto più quasi al libretto d'opera insomma che alla alla canzone leggera bene il tutto risulta molto affascinante ne abbiamo parlato con Francesco Patrizzi l'autore di questo libro Lo Splin di Lucio che trovate in tutte le librerie Arcana Edizioni naturalmente sono più di 300 pagine 360 pagine quindi abbiamo toccato soltanto sfiorato alcuni argomenti per approfondirli per capire meglio questi cinque dischi comunque molto importanti di Lucio Battisti insieme a Pasquale Panella vi consiglio proprio questo testo grazie a Francesco Patrizzi e grazie anche a chi ci è stato a sentire se vi va poi potete anche iscrivervi a questo canale